Perché dobbiamo disintossicarci e quali sono i segnali che il nostro corpo ci manda per chiederci un detox? Scopriamolo insieme! Ciao a tutti, sono la dottoressa Carlo Tagnavi, farmacista specializzata in naturopatia e coach del benessere e sono qui per parlarvi della disintossicazione. È una pratica questa molto importante che purtroppo nella nostra società stiamo perdendo, è una pratica che fa parte delle medicine antiche tradizionali da sempre ma che come dicevo non conosciamo a sufficienza. Però prima di entrare nel tema se non sei ancora iscritto al canale ti invito a farlo, clicca qui sotto su iscriviti e attiva le notifiche con la campanellina che trovi di fianco così ogni settimana quando uscirà il nuovo video riceverai la notifica e non ne perderai nemmeno uno. Come dicevo il nostro corpo è un sistema, produce tossine anche semplicemente col metabolismo cellulare che avviene in ogni istante della nostra giornata. Il nostro corpo proprio perché per forza di cose produce tossine ha anche un sistema di eliminazione di queste tossine. Noi abbiamo degli organi deputati alla disintossicazione del nostro corpo che sono definiti organi e montori. Sono divisi in organi e montori primari e organi e montori secondari. Quindi il corpo è un sistema come al solito perfetto, quindi ha un sistema di produzione tossinica ma anche un sistema di eliminazione. Quando avviene il vero e proprio problema? Quando il carico tossinico è eccessivo, quando il carico tossinico fa sì che le nostre cellule non funzionino più bene e che il nostro sistema ha, diciamo intasato se vogliamo usare una parola molto semplice, cioè non è più in grado di eliminare efficacemente tutte le tossine accumulate. In questo video voglio aiutarvi a riconoscere i segnali che il nostro corpo ci può dare per farci capire che è estremamente intossicato e ha bisogno di essere ripulito, usando sempre delle parole molto semplici. Ci sono persone che hanno più segnali perché magari sono molto intossicate oppure perché hanno uno scarso sistema di eliminazione tossinico. Questo dipende anche dalla nostra costituzione, noi lo sappiamo non siamo tutti uguali, ci sono persone che hanno un'elevata energia vitale, hanno una buona costituzione forte e questo può permettere loro anche qualche eccesso senza non risentire immediatamente di questo danno. Mentre ci sono soggetti più fragili, diciamo così, più delicati, ecco mi piace di più questa parola, che purtroppo appena sgarrano un momentino si accorgono subito dell'errore. Quindi noi dobbiamo sempre prendere in considerazione la nostra costituzione, quindi il fatto che qualcuno arrivi a cent'anni fumando, mangiando male e bevendo alcol non vuol dire che questo possa avvenire per tutti, ok? Quindi può essere che abbia quella persona una costituzione particolare che l'abbia supportata in tutto questo. Ma vi assicuro che è molto più facile arrivare bene facendo attenzione e mantenendo il proprio terreno, il nostro sistema pulito. Come dicevo il nostro corpo accumula tossine semplicemente anche con il metabolismo cellulare. Ogni giorno noi produciamo scarti metabolici e tossine. Il problema è che oltre alle tossine endogene esistono anche le tossine esogene, cioè quelle che arrivano dall'esterno. Sono tossine che noi assumiamo semplicemente con una cattiva alimentazione, utilizzando dei prodotti non sicuri, respirando l'aria molto inquinata, se abbiamo amalgame dentali. Sono tantissime le fonti di carico tossinico e con carico tossinico io mi riferisco anche al carico da metalli pesanti che spesso noi abbiamo nei nostri tessuti. E questo è un problema perché queste tossine vanno a modificare la nostra matrice extracellulare, diciamo quel mare in cui galleggiano le nostre cellule, per darvi un pochettino un'immagine. Questa matrice diventa sempre più tossica, sempre più densa e gli scambi cellulari di nutrimento e di eliminazione degli scarti avvengono con sempre maggiore difficoltà. Quindi la cellula inizia lavorare meno bene, diventa meno efficiente. Allora ecco che anche la produzione energetica si riduce e la cellula pian pianino invecchia. Invecchia anche perché è sempre più intaccata da radicali liberi che la rovinano. Quindi se noi vogliamo veramente prenderci cura del nostro corpo noi dobbiamo stare attenti a eliminare le tossine con una certa frequenza e ovviamente cercare di limitarne l'ingresso. Ovviamente in base a ciò che noi possiamo fare. Dobbiamo ricordarci che le pratiche di disintossicazione hanno sempre fatto parte delle medicine antiche tradizionali. Siamo noi oggi che ce ne siamo dimenticato, spesso perché non c'è stato insegnato. Allora eccomi qui per aiutarvi a scoprire un po' come fare nella nostra quotidianità. Se ci pensiamo ad esempio nella Ayurveda, la medicina antica indiana di cui spesso vi parlo, Ayurveda significa scienza della longevità, quindi nasce per invecchiare bene, per vivere bene. Nella Ayurveda l'attenzione al terreno è fondamentale, esattamente come nella naturopatia. Il rimedio fitoterapico si utilizza per supportare il terreno. Sappiate che nella Ayurveda ad esempio uno dei primi rimedi che si consiglia è proprio un rimedio di disintossicazione del sistema, perché se io disintossico anche gli eventuali altri rimedi funzioneranno meglio. E questo è ciò che avviene anche oggi. Se io ho un fegato scarico, diciamo così pulito, il fegato è il nostro grande depuratore, anche ad esempio durante l'utilizzo di una cura medicinale è facile che quel farmaco lavori meglio. Ovviamente come al solito se io assumo dei farmaci devo stare attento a fare le disintossicazioni, in ogni caso devo parlarne con il mio medico, perché io potrei spingere, diciamo così, mettere l'acceleratore su alcune attività enzimatiche e questo potrebbe ridurre o amplificare l'attività del farmaco, quindi bisogna come al solito stare attenti. Però se seguiti da dei bravi terapeuti, se il farmacista, il medico è a conoscenza di queste pratiche, vi assicuro che se scaricate il fegato, anche se dobbiamo utilizzare i farmaci, possiamo avere meno effetti collaterali e rendere più efficace anche il nostro farmaco. Quindi parliamone con chi è competente e può darci una mano. Di sicuro, come dicevo, noi possiamo iniziare a inserire delle piccole pratiche quotidiane, ma prima di questo voglio aiutarvi a capire i segnali che probabilmente il vostro corpo vi sta già mandando per segnalarvi la necessità di una disintossicazione. Per esempio, al mattino, come vi svegliate? Notate di avere le borse sotto gli occhi, di avere gli occhi gonfi? Avete la sensazione di non aver riposato a sufficienza? Com'è il vostro sonno? È ristoratore o interrotto? Avete delle problematiche dermatologiche come acne o dermatiti o psoriasi? Notate di avere un sistema immunitario poco efficiente? Quindi quando capita magari di essere vicino a una persona con raffreddore, ve lo beccate subito? Notate di essere sempre molto stanchi, molto affaticati, di non avere una buona capacità di recupero? Ogni tanto vi accorgete di avere una bassa vitalità, una bassa voglia di fare? Osserva i tuoi capelli, come sono? Sono folti, voluminosi o hanno perso volume e soprattutto luminosità? E com'è la tua pelle? Ti sembra più spenta, più ingrigita rispetto magari a qualche anno fa? Prova a pensare all'odore del tuo sudore. È molto forte, acre e pungente? E le tue feci come sono? Sono molto maleodoranti? Queste feci sono sempre belle e compatte come le definisco io? Oppure soffri di alvo irregolare, quindi un'alternanza di stipsi e diarrea? Di che colore è la tua urina? E torbi da volte oscura? E magari anche un cattivo odore? Com'è la tua pancia? È spesso gonfia? Le tue unghie sono forti o si spezzano facilmente? Com'è la tua digestione? È veloce o ti accorgi di impiegarci molto tempo per digerire? Hai la sensazione di avere poca memoria, poca concentrazione o a volte sentirti semplicemente come dire annebbiato? Hai amalgame dentali? Stai magari seguendo una dieta alimentare e noti di non riuscire a perdere peso come vorresti? Se le risposte alle domande che ti ho appena posto sono affermative anche in piccola percentuale, se magari abbiamo detto 3 o 4 sì, probabilmente il nostro corpo ci sta già indicando un eccesso di tossine, una tossiemia. Ovviamente potresti aver risposto in modo positivo a queste domande anche in presenza di patologie o altri problemi, quindi come al solito ti invito a parlarne col tuo medico, ma sappiamo che spesso i segnali di un carico tossinico sono questi. In un mio precedente video vi avevo già indicato alcune pratiche detox da inserire nella vostra giornata, così da favorire l'eliminazione di queste tossine, ma oltre a questo vi suggerisco ogni tanto potrebbe essere un giorno a settimana di concentrarvi sulla vostra detossificazione. Che cosa potremmo fare in questo giorno per aiutare il nostro corpo ad eliminare le nostre tossine, per esempio ridurre il carico. Potremmo fare un giorno di monodieta, come si dice in naturopatia, ovvero un giorno in cui magari ci concentriamo e mangiamo esclusivamente frutta o verdura, quindi eliminiamo per soltanto un giorno tutti quegli alimenti che richiedono una digestione particolarmente intensa. Questo perché? Per far sì che le nostre energie, i nostri sistemi di autoguarigione possano attivarsi, per evitare che il nostro corpo spenda troppo energia nella digestione, ma possa andare a usare questa energia per l'eliminazione delle tossine. Se decidiamo di fare una giornata verde, come la chiamo io, automaticamente inseriremmo anche molta clorofilla in quella giornata e noi sappiamo che la clorofilla, il sangue verde delle piante facilita la rimozione e l'eliminazione delle tossine, perché sostiene la depurazione del fegato, ossigena le nostre cellule, dando loro più energia, più capacità di recuperare l'equilibrio e la giusta attività ed efficienza, ma allo stesso tempo la clorofilla elimina aflatossine e metalli pesanti. Ovviamente in questa giornata che decideremo di dedicare al detox, dobbiamo bere molto. Allora iniziamo al mattino subito con circa mezzo litro d'acqua, con mezzo o un limone spremuto dentro e continuiamo a bere almeno un litro e mezzo o due nell'arco della giornata. Se decidiamo di fare una giornata ad esempio a frullati verdi, possiamo al mattino creare un frullato da circa un litro da bere distribuito nell'arco della nostra giornata. Ovviamente come dicevo un frullato verde, quindi con verdura e frutta, ma tendenzialmente che abbia questo colore. Come al solito vi ricordo che se assumiamo farmaci, quindi siamo in terapia farmacologica, abbiamo patologie o siamo in uno stato di gravidanza o allattamento, prima di fare qualsiasi detox dobbiamo chiedere un parere al nostro medico curante. Personalmente io ad esempio a chi assume farmaci anticoagulanti come a base di warfarin, per intenderci il cumadin, i frullati verdi li sconsiglio perché la verdura, soprattutto quella verde, è ricca di vitamina K1 che potrebbe andare in interazione col farmaco. E anche se siamo in gravidanza non consiglio dei detox, non è certo il momento. E anche in allattamento dobbiamo stare attenti a qualsiasi detox. Perché? Perché se per esempio volessimo utilizzare anche dei rimedi fitoterapici per facilitare tutto questo, noi dobbiamo ricordarci che le tossine cercheranno un sistema di eliminazione e questo potrebbe essere il latte. Quindi rischieremo di passare le nostre tossine al nostro bambino. E se non volessimo fare la monodieta potremmo prendere in considerazione anche il digiuno intermittente, anche farlo ogni tanto, lasciare degli intervalli in cui non mangio. Parlo di 12-16 ore, non parlo di digiuni esageratamente prolungati, però sappiamo che già soltanto in quel piccolo intervallo di digiuno il nostro corpo attiva dei sistemi di eliminazione. Prima di tutto attiva l'autofagia, cioè l'eliminazione di cellule malformate e questo è molto utile. Dall'altro l'eliminazione di un carico tossinico eccessivo. Quindi potremmo prendere in considerazione o l'uno o l'altro da inserire anche soltanto una volta nella nostra settimana. È già una piccola pausa che concediamo al nostro corpo. È logico che se decido di fare un lavoro di questo tipo, ovviamente vi raccomando nel resto della settimana di continuare a mangiare comunque bene, cercando di evitare i tre veleni bianchi, cercando di limitare l'esposizione alle tossine esogene, agli interferenti endocrini, all'eccesso di metalli pesanti che purtroppo noi troviamo in tante fonti che utilizziamo normalmente nella nostra giornata. Perché? Perché se veramente vogliamo prenderci cura di noi stessi e vogliamo raggiungere quel benessere, non è sufficiente un giorno di stop, dimenticandoci poi delle buone abitudini. Quindi io sono qui per cercare di aiutarvi e farvi ottenere il vero benessere. Quindi già soltanto prendendo consapevolezza della tossiemia, noi possiamo decidere di fare qualcosa per limitarla. E questo qualcosa noi lo possiamo fare in modo molto mirato, ad esempio un giorno a settimana, ma poi cercare con le nostre azioni quotidiane di migliorare anche il resto della settimana. E vediamo adesso i benefici che otterremo da una disintossicazione del nostro corpo. Sicuramente avremo una maggiore energia e vitalità, avremo una pelle più luminosa, avremo dei capelli più lucenti, finalmente ritorneremo ad avere un sonno ristoratore. Il nostro sistema digestivo non può che migliorare, quindi se la nostra digestione era lenta, ritornerà ad essere efficiente. Ma avremo anche una maggiore chiarezza e concentrazione mentale, gestiremo meglio lo stress, entreremo finalmente in connessione col nostro corpo e riusciremo a decifrare i segnali che finalmente ci manda. Sentiremo meno l'esigenza di zuccheri e cibo spazzatura. E infine potenzieremo il nostro cervello e il nostro sistema immunitario. Vi invito dunque a sperimentare una vera e propria disintossicazione del vostro corpo, non potrete che trarne tantissimi benefici. Io spero che questo video possa esservi d'aiuto, se così fosse mi raccomando lasciatemi un like di supporto e condividetelo con le persone che amate. Io vi mando un carissimo abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Un bacione!